Bene, signore, lei si chiama Le Boschi e anch'io mi chiamo Le Boschi. È stupendo, ma sono molto occupato, come immagino sia lei. Cosa posso fare per lei? Vede, signore, si tratta di questo mio tappeto. Dava veramente un tono all'ambiente. Lo ha già detto a Brent al telefono e lui lo ha detto a me. Io che cosa c'entro? Quei due stavano cercando lei e quindi... Forse non ha sentito. Lo ha già detto a Brent al telefono. E lui l'ha detto a me. So cosa è successo allora, allora. Quindi sa che quelli volevano pisciare sul mio tappeto? Ho urinato io sul suo tappeto? Nel senso che è venuto di persona a far pipì sul mio tappeto? Pronto? C'è qualcuno in casa? Parla forse un'altra lingua? Le ripeto la domanda. Ho urinato io sul suo tappeto? No, è stato V a pisciare sul mio tappeto. No, io vorrei capire una cosa. Ogni volta che qualcuno minge su un tappeto in questa bella città, io devo risarcire il proprietario? Andiamo per la miseria. Le sembra uno che vuole fregare la gente. Nemmeno per sogno. È solo che... È solo in cerca di soldi, come tutti gli altri. Lei ha un impiego, signor Lebowski? Un momento, aspetti che le spieghi una cosa. Io non sono il signor Lebowski. Lei è il signor Lebowski. Io sono Drugo. È così che deve chiamarmi, capito? O se preferisce Drughetto, oppure Drugantibus, oppure Drughino, se è di quelli che mettono il diminutivo ad ogni costo. Lei ha un impiego, signore. Impiego? Non si va in giro a cercare lavoro vestiti in quel modo in un giorno feriale? Perché oggi... Che cos'è oggi? Io invece lavoro, signore. Quindi se non le dispiace... Mi spiace, come? Il Drugo si dispiace, non può tollerare, capisce? Questa aggressione non può essere tollerata. Insomma, se sua moglie va in giro a... Mia moglie! Non c'entra per niente in questo. Spero che mia moglie un giorno impari a farsi passare il mensile, che è ampio. Ma se così non fosse, sarebbe un problema suo, non mio. Come il tappeto è un problema suo. E proprio come ogni sbandato al mondo è responsabile della propria vita, indipendentemente da chi ha scelto di incolpare. Io non ho incolpato nessuno quando ho perso le gambe. Un mostro giallo me ne ha portate via, in Corea. Ma io sono andato avanti, a realizzare. Non posso risolvere i suoi problemi, signore. Solo lei può. Ma vaffanculo. Eh, vaffanculo. Sì, questa è la sua risposta. La sua risposta a tutto. Se la faccia a tatuare in fronte. La vostra rivoluzione è finita, signor Le Boschi. Condoglianze. Gli sbandati hanno perso. Faccia come i suoi genitori. Accetti il mio consiglio. Si trovi un lavoro. Gli sbandati perderanno sempre. Mi ha sentito, Le Boschi? Gli sbandati perderanno sempre. Ma com'è andato l'incontro con il signor Le Boschi? Molto bene. Il vecchio mi ha detto di prendere il tappeto che preferisco. Allora se lo goda. E magari qualche volta. E magari qualche volta.